grande davide grazie grazie tutti a casa ragazzi adesso presento una grande donna sapete perché per tutelare una famiglia che stavano sfrattando è con noi roberta lombardi grazie ecco questo è il modo migliore impianto luci pittino che succede va bene io vi racconterò prendendo spunto da quello che diceva giampiero da un utilizzo di un privilegio per cercare di riportare un pochettino di legalità e di giustizia in questa in questa città soprattutto in questo paese ma in questa città io vi parlerò di uno dei tanti diritti che ci hanno tolto perché ci tolgono diritti e ci danno gentili concessioni in cambio dei nostri voti questo stanno facendo lo stanno facendo per la scuola l'hanno fatto per il lavoro parlavo di una per con una persona del bonus poletti ti hanno rubato 6 mila euro te ne danno 400 ti devi dire anche grazie ecco questo è il sistema che funziona per queste persone ti tolgono diritti come il diritto alla casa a Roma e ti danno gentili concessioni che si fanno pagare caramente a ogni elezione con il tuo voto perché puntano sulla tua disperazione noi questo non lo possiamo accettare per il diritto alla casa per il diritto a poter vivere in una casa dignitosa e sicura noi sono due anni che con il comune con la regione e con i municipali a livello parlamentare stiamo lavorando su un sogno un progetto che era diventato legge nel 1962 che già esiste era il progetto dei nostri genitori di poter garantire un tetto sulla casa sulla testa anche a quelle famiglie che magari hanno una situazione economica meno florida e che non gli permette di affrontare i costi di un camion ed affitto di mercato o di comprarsi una casa a prezzo di mercato che sono gli strumenti del quello che viene chiamato social housing l'edilizia sociale e che serve non solo a chi è economicamente più debole per potersi comunque poter usufruire di questo diritto alla casa ma anche alle persone al mercato stesso della casa per tutte quelle persone che invece vogliono comprarsela sul libero mercato pagando un prezzo che non sono i prezzi assurdi di Roma i nostri padri avevano pensato a una società solidale dove chi ha di più aiuta a pagare chi ha di meno ed esiste uno strumento uno strumento di edilizia popolare che si chiama piano di zona che è formato da un privato che costruisce la regione che gli dà i soldi il 50 per cento del finanziamento è a fondo perduto cioè soldi delle nostre tasse che vengono dati a un costruttore privato perché questo possa costruire queste case per chi non si può permettere una casa ad un prezzo di mercato e dove vengono costruite queste case su terreni comunali quindi un imprenditore privato prende soldi pubblici per costruire su un terreno comunale e sono tutti buoni a fare imprenditori così grazie e nonostante questo nonostante questo il comune e la regione ti chiedono solo una piccola cosa ti ho dato dei soldi pubblici ti ho dato l'utilizzo di un terreno in cambio tu queste case che stai costruendo me le affitti o me le vendi a dei prezzi più bassi io regione e comune ti dico quanto mi devi togliere dal prezzo che tu stai facendo perché ti tolgo quegli soldi pubblici che noi con le nostre tassi abbiamo già pagato ecco questo non è avvenuto questo non è avvenuto ci sono persone ci sono famiglie come la famiglia di roberta la mia omonima presso cui casa ho posto il mio domicilio parlamentare che per anni hanno pagato più soldi di quello che avrebbero dovuto addirittura lei se andiamo a fare il conto tra quanto ha pagato e quanto avrebbe dovuto pagare è in credito nei confronti del padrone di casa di 10.000 euro nonostante questo poiché le nostre istituzioni pubbliche le cui campagne elettorali i nostri amministratori hanno le campagne elettorali finanziate da questi signori del mattone delle aziendità immobiliari questi signori invece di far applicare questa legge visionaria del 1962 quando ancora si segnava una società equa giusta solidale se ne sono ben guardati e questa famiglia una mamma con due bambini piccoli stava per finire in mezzo alla strada questo per noi è inaccettabile e per questo ci battiamo perché venga ripristinata la legalità a roma perché questa legge è una legge nazionale non diventi un'eccezione non diventi una concessione rispetto della legge deve essere un principio sancito tutti i sacrosanti giorni da chi ha l'onore e l'onere di amministrare un bene pubblico come i nostri soldi ora io vi dirò cosa faremo quando saremo al governo di questa città perché adesso ci dicono sempre eh vabbè voi parlate ma non ci sono i soldi ci sono i soldi noi pure vorremmo fare tante cose non ci sono i soldi a parte che se la tua preoccupazione è il buco di bilancio non ci vai a mettere quello che ha fatto 12 miliardi di buco come assessore al bilancio è come invertire che se c'è un'intossicazione alimentare mi duro col pesce marcio io capisco l'omeopatia lo schifo ma tutto ci deve essere un limite insomma basta e non è vero che non ci sono i soldi perché se noi abbiamo fatto così ci siamo divertiti speziati a fare con il mio staff le persone perché non siamo solo noi tutti noi abbiamo dietro delle persone dei volontari delle persone che con noi studiano la notte dopo l'aula dopo il lavoro perché appunto molti sono volontari quindi lavorano per chi ancora ce l'ha e danno il loro contributo studiano preparano atti che noi poi portiamo nelle istituzioni ci siamo divertiti a fare questo conto insieme a loro e abbiamo stimato più o meno i soldi che potremmo ricavare se a Roma si applicasse la legge sui piani di zona allora un palazzo costruire un palazzo più o meno costa a un costrutto il diritto di superficie e adesso vi spiego cos'è e oneri di concessori adesso vi spiego cos'è più o meno costerebbe dovrebbe dare al comune di Roma una stima prudenziale di un milione di euro al palazzo prudenziale cosa è il diritto di superficie? Il diritto di superficie è il diritto ad utilizzare un terreno per costruire cos'è un anno di concessorio? È quel contributo che il costruttore deve pagare al comune per dire io pianto un palazzo qui però tu ci devi costruire le strade, l'illuminazione, le reti fognarie, le reti elettriche cioè quelle cose che rendono una casa insomma normale ecco i costruttori non pagano diritto di superficie, non pagano oneri di concessori per i piani di zona perché fa parte di questa convenzione, di questo accordo con il pubblico allora abbiamo stimato un milione di euro al palazzo sempre una stima prudenziale abbiamo detto più o meno dieci palazzi a piani di zona sono molti di più ma noi ci siamo voluti tenere bassi quindi stiamo un milione, sono dieci milioni di euro a Roma i piani di zona attualmente attivi sono centocinquanta più o meno uno per dieci dal centocinquanta noi semplicemente facendo applicare la legge recupereremo per questa città un miliardo e mezzo di euro un terzo del bilancio comunale di questa città solo facendo applicare una legge che esiste dal 1962 quindi non è vero che non ci sono i soldi non è vero, non ci sono i soldi per noi cittadini ma per loro e per i loro compagni di merende ci sono e come è per questo che noi dobbiamo lottare per un sindaco 5 stelle per un'amministrazione 5 stelle, per dei cittadini 5 stelle perché non è un sindaco una sola persona che risolve un problema non è questa la filosofia, è la nostra filosofia è una comunità solidale che rispetta le regole e le fa rispettare e io la prossima volta che verrò in questa piazza che tra l'altro è dietro casa mia, anche io sono di questo municipio io voglio pensare che sarà presto presto Roma sarà un comune 5 stelle grazie! 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 grazie!